Il dormetazepam è un farmaco appartenente alla classe delle benzodiazepine, note per le loro proprietà sedative e ansiolitiche. Viene prescritto principalmente per trattare l'insonnia, poiché il suo meccanismo d'azione comporta l'aumento dell'attività di un neurotrasmettitore chiamato GABA, il quale ha un effetto calmante e sedativo, riducendo l'attività neuronale, promuovendo il rilassamento muscolare ed inducendo il sonno. Tra la sua classe di farmaci è noto per la sua breve durata d'azione, il che significa che è efficace nel promuovere il sonno senza causare sonolenza eccessiva al risveglio. Infatti, questo farmaco è generalmente prescritto per trattare l'insonnia a breve termine o occasionale. Tuttavia, è importante notare che questo farmaco può avere effetti collaterali significativi, come sonolenza diurna, vertigini, amnesie e, se usato per lunghi periodi, può portare ad una grave indipendenza. Pertanto, è fondamentale utilizzare l'ormetazepam solo sotto la supervisione di un medico, rispettando scrupolosamente le dosi e la durata del trattamento prescritte e non prolungare l'uso senza una valutazione adeguata.